Guarda, non neanche i capelli mi sono fatti, se mi guardano in Eurovisione mi vedono spettinato. Non è diventato il mondo del dito, l'abbiamo abbastanza rubito. Senti qualcuno che c'è una munita di periodo di ambione, non è diventato. Eh no, ma tanto si è tolto le dirette. Si è tolto le dirette. Sì, io anche ora ho cercato di mettermi in contatto con Primo Canale, come ha detto Primo Canale, non c'è sia un cazzo. Vediamo a volte Genova 24 cosa combinata. Secondo me siamo vicini. E lì speriamo che nessuno si sente male perché uno veramente può morire oggi. Ah ma è sua l'ambulanza. E' una presa. Ma scusa mia, sul tetto dell'Ikea ci sono persone? Ma sono là sul tetto? Ma scusa mia, sul tetto dell'Ikea ci sono persone? Ragazzi l'ho preso se vi serve, ce l'ho tutto per culo, ma per culo perché stavo guardando la macchina. Ikea! Non c'è tanto ma... Ma che fosso il tuo chino? Gli ha l'uso ragazzi? polvere aspetta aspetta continuano a buttare acqua stacca stacca no d'accordo però voglio dire normalmente fa proprio buono quando hanno buttato giù quando ha detto che quella del vigile del fuoco è il reato che via 20 settembre è arrivata me l'hai ricorso quasi io ero lì una fortuna che tra virgolette che c'è al vento che si è spinguto tutto da una parte sola esatto sì e tra l'altro ha creato poi il secondo dal terreno ha dato la bocca le scariche e poi le hai visto vede in giro capito ha dato come fosse lo spruzzo allora io in quel momento stavo inquadrando per vedere diciamo l'acqua che spruzzavano ho visto la fiammata no ma io l'ambulanza che mi ha fatto sentire le sirene dietro esatto proprio ciao a tutti al prossimo scoppio come no non ci sono più scoppio possibili dai qualche scoppicero ecco il simbolo di quello ancora in piedi col fumo è una cosa meravigliosa guarda Anna 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 cosa sei? Ma stai un po' bravo, stai brava, no, stai brava, stai brava, Anna per favore, stai calma, a un caso non è successo niente, tranquilla, ma lui abita lì nelle vicinanze, non succede niente alle case. E' spaventato, Cristo, fatele qua. Ciao, ragazzi, ciao. Ciao. Sì, ma è il tempo di rimandartela. Eh, questo non te lo so dire. Io adesso devo andare, come ti ho detto, che c'è un convegno alle 11. Nel pomeriggio riesco a mandarti tutto, ma prima no. Ma no, alle case non succede nulla. Perché li lasciano da portare a 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 portare. Perché li lasciano da portare a 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 portare. Grazie. 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 Grazie.